Siamo onorati di avere qui a Monte San Biagio nella nostra Valle Marini. Se vi accomodate, mi rivolgo in particolar modo ai ragazzi. Abbiamo pensato di fare una manifestazione e io ho pensato come fare a rendere solenne questa manifestazione. Ed è stato semplicissimo perché abbiamo tenuto conto che la solennità passa attraverso la semplicità. E quando le cose sono semplici e sono contornate dalla presenza di chi rappresenta il futuro, credo che sia l'aspetto più solenne che si possa dare ad una qualsiasi manifestazione. Un applauso a questi bambini che rappresentano il nostro futuro. Grazie. Grazie.